Al termine di domandata ci saranno il 50% di metropolitani in più. Aperà il primo tratto al metro C, andrà avanti a linea D1 che è una linea... Ridono tutti, no? Poi abbiamo fatto uno sforzo rispetto a quelle che sono le strade consolari. Attualmente in allargamento la Tiburtina, la Palestina Bis, la Roma L'Aquila, la Boccea che sono i colli di bottiglia su cui si va a scontrare il traffico a Roma. Stiamo cercando di rendere più credibile il trasporto pubblico locale però purtroppo abbiamo avuto un taglio di circa il 42% dei trasferimenti regionali e nazionali sul trasporto pubblico locale. Lei pensi che per mantenere lo stesso servizio noi abbiamo in questi anni mettere il 70% in più di nostre risorse sul trasporto pubblico ma non per aumentare semplicemente per ripianare quello che ci veniva tagliato dagli altri enti. Quindi credo che questo sia un tema generale, il governo ci deve dire quanti soldi vuol mettere su questo. Quindi è il governo...